L'Immacolata non ha tradito le attese a Salerno, dove si è registrato il tutto esaurito sotto le luci d'artista. Alberghi e bed and breakfast hanno raggiunto il 96% di occupazione delle camere. Ristoranti, bar e negozi hanno lavorato in maniera incessante. Un trend che, grazie al lungo ponte, è destinato a proseguire per tutto il weekend. Come ha evidenziato anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Il luci d'artista è ancora un evento che richiama masse importanti di visitatori, di turisti, di curiosi. La città viene pacificamente invasa da tante persone, che poi significa portare ricchezze, economia, sviluppo e marketing territoriale. Tra i luoghi più visitati dai turistici è anche l'antico presepe dipinto da Mario Carotenuto. Proprio nella sala San Lazzaro in Via Duomo è stata scoperta una targa in ceramica, dedicata al pittore salernitano nel centenario della sua nascita. 40 anni del presepe di Carotenuto, ma 100 anni del maestro Carotenuto. Noi oggi festeggiamo due realtà. Il presepe è stato realizzato dal maestro Carotenuto con l'aiuto di mio padre. Non solo ad essere un luogo dove ci ritroviamo nel periodo natalizio, soprattutto chi è legato al centro storico, ma è anche il calendario della storia di 40 anni di questa città.